Allora, io adesso darei la parola al professor Antonio Catricalà, che è il vice ministro del sviluppo economico, ma è soprattutto un'unità. Ma intanto forse vi parlerei della mia attuale veste di vice ministro per le comunicazioni che tanto ha a che vedere con la tutela dei consumatori. L'altra mattina ero in Parlamento alla Commissione di Vigilanzarai a illustrare il nuovo contratto di servizio, un contratto di servizio che dovrebbe garantire maggiore trasparenza e rendere visibile o più visibile ai telespettatori come viene speso il gentito derivante dal camere e rendere anche più meglio controllabile da parte dell'autorità delle comunicazioni l'adempimento ai singoli obbligo contrattuali che questa importante azienda nazionale assume nei confronti dello Stato. E a un certo punto mi è stata rivolta una domanda da una parlamentare del Movimento 5 Stelle che mi ha detto che tutto questo noi lo capiamo, ma dov'è l'azione di classe dei consumatori nei confronti della RAI in caso di violazione degli uomini? E qui ovviamente le risposte in Parlamento non possono essere lunghe, un libro o due libri, ma forse sarebbe servito avere tutto questo tempo perché è un problema di natura culturale. Cioè i contratti di servizio in Italia, quello della RAI come quello delle autostrade, delle ferrovie, delle poste ma anche dell'azienda locale di trasporto, si concludono tra l'amministrazione e l'azienda. Poi c'è un convitato di pietra che è il cittadino, l'utente, il videospettatore, il telespettatore, l'ascoltatore in caso di radio, il viaggiatore sull'autostrada, che però ne resta sostanzialmente escluso. Dovrebbe essere beneficiario ultimo di quella negoziazione, però sta da una parte. Se il contratto è rispettato bene, se il contratto è rispettato, non succede nulla. Io la prima volta che mi sono occupato di questo problema è stato quando la società autostradale continuò ad immettere auto in autostrada nonostante che la rene, era tre o quattro anni fa, continuasse a riempire le corsie, rendendo impossibile sostanzialmente il traffico. A un certo punto mi si chiese da parte dell'azienda di chiudere la procedura che io avevo aperto per una radia commercialmente scorretta, cioè vendere il servizio, sapendo che non puoi aventere, poi probabilmente c'era molto di più da contestare all'azienda, ma quello era il mio mestiere. Devo dire che quando ho poi sostanzialmente visto questi impegni sono rimasto particolarmente deluso perché io immaginavo che negli impegni avrei trovato una forma o di risarcimento nei confronti di tutti i consumatori che erano stati in quell'occasione, diciamo, delusi, tra virgolette, ma per usare un eufemismo, dall'azienda nella quale avevano riposto tanta fiducia da pagare un biglietto per viaggiare. Perché? Da che derivava questa delusione? Dal fatto che non c'era neanche una formulazione, neanche di buona volontà per l'avvenire di diventare direttamente responsabile nei confronti dell'utente, cioè non si riconosceva la lesione del diritto, non si riconosceva la necessità di prevedere nelle carte dei servizi e nei futuri contratti di servizio un'azione diretta ai consumatori per farsi tutelare in questo modo. Lasciando il tutto, certamente, a una class action, ma una class action non per violazione contrattuale, ma per violazione di un principio generale del neminem ledere. C'è un'azione generale per cui se io, camminando per strada, faccio male a qualcuno, nevolutamente o involontariamente, comunque sono tutta eserciti di danno. Ma è un'azione molto più complessa, molto più complicata, necessità di prove più difficili da dare. C'è tutta una maggiore difficoltà rispetto a chi invece dice io avevo un contratto, tu non l'hai rispettato e mi devi esercire. Ed è il caso del contratto di servizio della RAE. Che cos'è che non si riesce a fare? Non sono riuscito neanche in quell'occasione, ovviamente. Tant'è vero che finì con una volta, poi è pugnato a tardi, adesso perché siamo a funzione di Stato, poi uno non segue mai fino in fondo, purtroppo, tutte le vicende alle quali ha dato origine. Meno male, da una parte, perché mi ricordo che una volta l'antitraso, oltre alla mia presidenza, diede a Leni, che non per l'attuale gestione, ma in una precedente gestione, aveva ristretto le importazioni di gas in Italia per fare aumentare il prezzo e l'Italia rispò quasi al freddo, non dico al freddo, ma rischiò di restare al freddo, era una multa di 270 milioni. Quando è finita poi la vicenda, io l'ho seguita anche dopo al Consiglio di Stato, per 270 milioni, fermo restando l'impianto accusatorio, era diventato 20 milioni, che per Leni, penso che sia, comunque Leni aveva messo da parte 270 milioni come passivo, si trova un attivo di 250 milioni, che ovviamente mi venne poi profitto assolutamente, io ne vedo più multe perché gli conviene a questi, cioè alla fine fate male perché non avete niente da vedere, anzi avete da guardare. Che cos'è che manca? Manca un fatto culturale, il fatto culturale è che il consumatore ha bisogno di una tutela asimmetrica di un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, perché il consumatore contratta con chi ha una posizione di forza del mercato. Questa debolezza deve essere compensata da qualcosa, questo qualcosa può essere maggiore forza alle associazioni dei consumatori, una legittimazione più specifica, oppure un'autorità dedicata all'olo tutela. Non è che non si è fatto nulla, perché noi abbiamo dal 2005 il codice del consumo in Italia, un bellissimo codice che poi è stato nel 2007 integrato con le pratiche commerciali scorrette, che sono state assegnate all'antitrust a molte funzioni e tuttavia ancora quello che manca è la sensibilità di questo concetto. Una debolezza contrattuale di posizione che necessita di una particolare tutela, tutela che deve dimostrarsi forte sia in sede civile, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria. Non è così negli altri paesi europei. È vero che in Francia c'è il codice del consumazione, che è un codice più o meno coevo al nostro, ma in Francia esiste il concetto di abuso del diritto privato già dal primo codice napoleone. Cioè da quando ci furono i primi codici in Francia si pensò che il privato potesse abusare del proprio diritto. Questa nozione in Italia non c'è. Cioè né c'è mai stata una differenza nel nostro codice civile tra il consumatore e il professionista. Anzi, da noi c'è il principio opposto. Siccome il nostro codice civile del 1942 assorbe il codice di commercio, che era l'ex mercatoria, quindi un codice tutto a favore degli imprenditori, nel nostro diramento vige il principio che il contratto a forza di legge tra le parti. Cioè di fronte al contratto i due contratti sono uguali. In Germania non è così. Perché in Germania nei primi paragrafi del beghe beghe, non lo codice civile, c'è scritto che cos'è il consumatore e definito che cos'è il professionista. Ci sono questi due diversi status. Allora noi stiamo parlando di culture, quella tedesca che definisce esattamente gli istituti, quella francese che ci arriva attraverso la nozione dell'abuso e il diritto, che devono essere calate nel nostro ordinamento. Ma il nostro ordinamento è un ordinamento estremamente rigido, è restito alle novità. Perché è inquadrato in determinati schemi. Quando l'autorità dà una sanzione per scorrettezza commerciale, dietro la parola scorrettezza, che cosa si nasconde? Perché se si nasconde un illecito amministrativo tipico, hai lasciato la macchina indietro di sosta, il giudice amministrativo, io sono un giudice amministrativo nella mia vita originaria e nella mia vita sotterranea ancora, ma il giudice amministrativo sa che fare perché quella sanzione, quel comportamento è un illecito tipico, è definito dalla voce. Quindi sa che a quel comportamento consegue quella sanzione. Ma se si parla di scorrettezza, la scorrettezza è sfuggente, è una clausola generale, va riempita di controllo, ma quando è che uno è corretto e quando è che è scorretto? Io lo dico perché ho sbattuto il muso contro questa cultura. E dico l'uso e non faccia proprio per farvi capire che ho fatto la figura del toro che si scontra non contro il toreno, ma contro quelle balaustre di legno che mettono per proteggere il toreno. E questa barricata di legno era l'idea della possibilità di esagerare nel proprio esercizio del diritto che tutti hanno. Tutti. Giudici, amministratori e imprenditori purtroppo. Il caso è quello delle banche che dopo che era uscita la legge Persani, secondo la quale la surroga nel mutuo doveva essere gratuita, per cui io potevo cambiare banche contando il mio mutuo, avendo le condizioni più favorevoli a costo zero, le banche messe alle strette non consentivano ai propri clienti di fare questa operazione, ma li inducevano a estinguere il mutuo presso di loro e ci voleva incontrare un altro notario. Cancellare l'ipoteca, aprire un altro mutuo e iscrivere un'altra ipoteca. Quattro operazioni costose contro una gratuita. Io dissi, questa è una pratica commerciale scorretta e iniziai 24 procedimenti contro 24 importanti gruppi bancari. Ho perso 24 cause. Prima tale, poi la corruzione di Stato. Sulla base del principio non era vietato, ma ecco dov'è il problema. Allora è lì il problema. Il problema è culturale. Noi non dobbiamo andare in cerca, se vogliamo tutelare i consumatori, di ciò che è vietato ai commercianti, agli imprenditori. Dobbiamo andare in cerca di ciò che è loro consentito dall'ordinamento, ma è un abuso perché si approfitta della posizione di potere. Perché ciò accada, commissario, è necessario cambiare un istituto che non c'è nel nostro ordinamento. Crearlo. E non è facile perché il rapporto che viene giudicato è un rapporto tra imprenditore e consumatore, quindi è un rapporto tra privati. Ma il giudice ultimo di questo rapporto è il Tribunale amministrativo, il Consiglio di Stato che in genera giudica del rapporto tra l'autorità che dà la sanzione e l'amministrato che è il consumatore. Scusate, in questo caso l'amministrato è il imprenditore. E per forza di cose il giudice si mette alla parte del più tempo che è l'imprenditore contro l'autorità che è oppressiva. Ma non si accorge che quell'imprenditore ha fatto prima una cattivazione nei confronti del più debole del rapporto, che è il consumatore. Quello che bisogna costruire è una nuova categoria che io chiamerei abuso o eccesso o sviamento di potere privato. Cioè il potere privato, non è che stiamo parlando di potere pubblico, perché quando io sono una banca esercito il potere privato. Quando faccio la pubblicità ingannevole è potere privato, non c'è niente pubblicistico in tutto questo. Però posso nell'esercitare il mio diritto abusarmi se utilizzo nell'esercizio del diritto quella dose di maggior potere che ciò per la posizione che l'ordinamento economico mi assegna nel momento contrattuale. Allora è quello che deve essere compito, quella posizione di maggior privilegio. Per ora siamo lontanissimi da questo. Ed è vero quello che si diceva prima. È vero quello che diceva il nostro moderatore, è quello che diceva la commissaria. È un fatto culturale. Bisogna cambiare alcuni dati logici, giuridici, ma soprattutto strutturali della nostra formazione, di chi applica queste cose. Se così sarà, se riusciremo a fare noi di questo blocco di norme che abbiamo sposato, perché l'Europa ce l'ha imposto, perché fosse stato per il nostro Parlamento, non l'avremmo mai fatto il collice del consumo. Non l'avremmo mai fatto, perché da noi vincono altri principi. C'è anche una forma di, non voglio dire approganza, ma di scarsa considerazione nei confronti delle richieste, questi rompiscatoli dei consumatori. Sì, io lo capisco, fanno bene a rompere le scatole. Dobbiamo capire perché lo fanno. Ma fino a che saremo ancora in questa situazione di accettazione passiva di regole che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dalla cultura tedesca e dalla cultura francese. E non sono frutto del nostro diritto romano, non sono frutto della nostra considerazione dei rapporti tra privati e soprattutto non ribaltano il concetto che bisogna tutelare la certezza dei traffici. Sì, sicuramente, ma in una situazione di equità. Questo è il concetto che manca, l'equità nella considerazione delle rapporti. Fino a che non avremo questa costruzione, noi avremo un bel codice, ma mancherà lo spirito della legge. Tocqueville resterebbe deluso, perché avremmo una bella legge, ma la sua applicazione sarebbe impossibile. Quello che dobbiamo allora costruire, e per questo servono questi convegni, serve vederci, serve approfondire, serve invitare soprattutto a questi convegni, chi poi alla fine decide che sono i nostri giudici, quelli naturali che sono stati in interrovinamento, quando avremo questo cambiamento, noi potremmo dire chiaramente che il codice del consumo funziona, che possiamo dirci orgogliosi di avere ereditato queste norme dall'Europa, che siamo noi stessi parte che migliora i rapporti tra cittadini e istituzioni, tra cittadini, tra utenti e imprenditori, in un clima rinnovato di rapporti. A me è piaciuto molto quello che ha detto Dona. Noi non vogliamo la conflittualità. Noi vogliamo negoziare, ma per negoziare dobbiamo avere, non dico la pistola sul tavolo, ma almeno la possibilità di battere un pugno sul tavolo, che per ora ci viene legato.